Parte oggi, nonostante questo accenno di maltempo, l'Expo della Valle Rosso, una vetrina fondamentale per il turismo dell'increterra, ma anche per tutta la comunità. Abbiamo avuto un accenno di rinfresco passato, oggi il tempo tiene e vira il bello, questo è importante dirlo. Abbiamo una vetrina d'eccellenza che ormai è datata da nove anni, siamo alla nuova edizione. Rigorosamente prodotti del territorio, attività del territorio, eno, gastronomia, oltre 60 espositori e grande entusiasmo. Sinergia di pubblico e privato, di altissimo profilo, abbiamo anche un neo ingresso del parco Alpiliguri, per fare un esempio. Noi come Camara di Commercio sosteniamo le imprese, sosteniamo la piccola e media impresa di tutti i settori a 360 gradi, siamo estremamente soddisfatti perché abbiamo dato, oltre che un contributo finanziario ed economico, anche idee, progettualità e ruolo di coinvolgimento delle imprese, quindi grande successo.